Le categorie economiche rappresentative degli ambulanti e le categorie rappresentative del commercio. E' chiaro che il tema centrale è legato alla convivenza tra queste diverse anime. Io ho ribadito a tutti la disponibilità a trovare soluzioni alternative che diano una risposta agli ambulanti che hanno il diritto di lavorare. A fronte del diritto di lavorare c'è però anche una scelta rispetto alla quale, ho detto loro e lo vi dico qui, noi non torniamo indietro. E cioè quella di tenere libera Piazza di San Lorenzo. Se la domanda è Piazza di San Lorenzo libera o occupata, io ho detto, dico e dirò Piazza San Lorenzo libera. Questo significa che dovremo trovare insieme le soluzioni migliori nell'interesse di chi lavora ovviamente regolarmente nel commercio ambulante. Siamo rimasti che domani mattina vi sarà subito una riunione tecnica con gli uffici per individuare queste possibili soluzioni alternative. Non siamo lontani da una soluzione perché comunque le aree di cui abbiamo discusso nel corso di queste settimane sono quelle da voi note. Abbiamo sgomberato dal tavolo la questione di Lungarno della Zecca e di via Magliabecchi rispetto alla quale gli ambulanti mi hanno detto no, che non va bene. Noi comunque insistiamo perché si possa trovare una soluzione che parta però anche da una riqualificazione del mercato centrale di quella piazza. Oggi il mercato centrale funziona, avete visto il grande successo del primo piano e siamo convinti che mettendoci al lavoro con i tecnici, con gli stessi ambulanti, anche la piazza del mercato centrale con i banchi nuovi possa vivere una nuova stagione. L'unica cosa è che se siamo d'accordo, mi pare che stasera siamo usciti con questa posizione comune, che non si torna indietro rispetto alla decisione presa su piazza di San Lorenzo, allora si può lavorare in modo più costruttivo. Noi siamo i primi ad essere interessati a trovare soluzioni perché non rimanga questa situazione di continua tensione. Il lavoro che stiamo facendo è nell'interesse dei residenti, dei commercianti e degli ambulanti. Noi rappresentiamo tutti, non rappresentiamo solo una parte della città.